Seguro da parte con la gestione subito, così dopo, fammeli forti tutti, tutti forti, bisogna fare un'alleanza con Shao Iwan, tre anni, no no, alleanza niente, deve morire tutti gli altri cinesi, noi siamo i cinesi più forti, siamo i cinesi dominanti, siamo i cinesi nazisti, cosa? Scusi, sei scemo, tutti i cinesi, voglio sviluppare qualcosa, voglio produrre qualcosa, guarda qua, mette danno di ghiaccio, e fuoco, fuoco causa danni nel tempo e ghiaccio di ferro, ma che paralizza, sto disce, ma fa come vuoi, non lo so, ma come ti pare, i naga, cosa vuol dire i naga? ok siccome sono scemo so che un altro globo per te ora se prendiamo il rosa dammi il fuoco ho preso il ghiaccio per variare un po' lo seed invadiamo e basta allora non possiamo andare vabbè che senta che non volevo neanche andarci vabbè tipo san marino o la svizzera possiamo andare in due direzioni o questo o questa parte rosa che mi sembra quella più ampia io uso il mio cioè uso l'altra ma basta pip non fa come me ok metti tutti e tre non ho più voglia di perdere possiamo si ci stiamo ottimo excellent excellent schermo intero per favore non vedo un cazzo dai stat intanto erroi niente benissimo non ha anche con gli altri io sto usando il 1000 quell'altro ok benissimo dobbiamo metterci la roba vai prendi dai sorb devi stare calmissimo ok un secondo volevo vedere se stavo resistendo bene come l'audio è troppo alto vabbè fa niente va bene così chi se ne frega al massimo ci sente poco eh non è che vabbè però un po' secca dai stiamo urlando ok vedete così siamo a posto via si stavo pensando se c'era qualcosa da fare volevo vedere le nostre posizioni ma un'altra si vuole con la rai se le erai si vede un po' attra con molti più personaggi armor troops quello giocato la recenter di due revelation con me eh recenter del revelation 2 registrando no ma che è un altro se vuoi registrare ok la prima volta che giochiamo più bello no se non c'è il copyright più che altro lì devi se non c'è il copyright ma hai dato neanche mezzo problema di copyright per dire però buo è capcom a me da problemi con la Devil May Cry l'hai visto? cosa? uno scattone atomico ma comunque lo sai che è pieno di gente qui tu dicevi 60 fotogrammi ma lo sai che i nostri occhi non vedono più di 30 non è vero i nostri occhi non vedono più di 30 i di 30 si no non vedono più di 30 vi spiego noi notiamo la difesa tra 30 e 60 perchè i nostri occhi e lo schermo no? non lavorano in sincronia ebbè grazie quindi nel corso vediamo meno fluido perchè mancano dei pezzi praticamente però i 60 li vediamo non so tutti però ne vediamo di più perchè abbiamo più possibilità mentre stiamo guardando di notare il numero di fotogrammi presente a me non cambia niente ti risponderei in giapponese in questo momento perchè? non so mi verrebbe da rispondere in giapponese vabbè colpa dei cazzo di gruppi di skype con cui sto sempre dunque in ogni caso no? si sono già messo così male a me non cambia niente 60 fotogrammi o 30 a me non faga proprio un cazzo a me basta che non cadi da essere ingiocabile se è 60 fissi meglio ma se è 60 che dopo scende a 15 o a 10 no schifo mi piace 30 fissi ma proprio 25 fissi 25 fissi 25 fissi si anche 25 ma fa schifo 25 basta che siamo fissi tanto tutti i giochi a PlayStation 1 erano 25 infatti vedi di fondo abbastanza scapposini anche con tutti quelli a P2 questo quelli a P2 cioè in realtà credo che quelli a P2 ci vedino per lo più a a 60 50 però per via della televisione ne vedi meno in teoria cioè non lo so perchè comunque a meno di queste cose non è che me ne frega molto ho letto una roba un po' di tempo fa ma una volta scatti scatti ogni tanto si blocca ma succede eh si ho capito non è molto bello se eri distracci con flaps è stato mille volte peggio brutto 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 dammi un secondo no vabbè non vorrei fare una boiata cosa? no ok ok c'è ancora tanto spazio ah stai vedendo se c'è lo spazio? eh metti caso perchè non ci vado mai ultimamente c'è poco spazio poco 64 g sono pochi ho capito su quanto? suuuu cos'è un terra ehi no no 500 gb no hai vedi è solo un decimo quasi mi sono perso dove 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 andare tipo stanno arrivando le informazioni nemici ho capito io in battle sui giorni? eh ho fatto un po' di foto e non li stavo pensando e vieno solo soldati che migrano alla velocità della luce si già messo le ha messo della velocità il fufo è bastare ho messo un urb per conquister una base eh io vado avanti per poi li raggiungerò Si è accomparso il capitano nemico Ho benissimo, vado a ucciderlo Ah così? Se io voglio far arrivare un po' di allea Prima che mori te Il tempismo di questa mossa Va la quattro da quel che vale Appena che te la diamo, fammi sto comore Sto andando, sto andando Questo è velocizzato però Guarda quanto è veloce Eh lo so, come prima Prima me ne ho incontrato per quello Eh beh, ma tu usavi un personaggio più lento però Dov'è il capitano nemico? A cui non so mettere dei tizi Controlla un attimo Non mi ricordo come si chiama Com'era? No, per vincere Com'era? Conditions Ciao, chi ti vuoi? E lì, ti dai davanti Bene, uccidiamolo Lo uccido Ecco, questo qua? No È il Shao Yuan È quello lì Sul cavallo Il ciccione Aia Ti fanno male? Un po' Tanta gente Troppa gente Era meglio di aspettare gli alleati? No, no Non saga niente Li ammazzo tutti e tiro Magari Aia Ti stanno Una volta cazzo di gente c'è Che mi riescerà la coppia Però quella Fa scatti il gioco addirittura C'è la scatti va rallentato Aiaiaiaia Quella mano Oh, c'è un oggetto Cos'è? Velocità? Velocità Utile Davvero Non vengo la vita, cazzo Scappa e basta Passi mia idea è stata Passi mia idea è stata cosa? Prende la vita A me se aumentavo Cioè, possiamo apprendere il coso Ok L'hai mancato E' l'unico che non l'hai preso Un secondo oggetto Ok, vita recuperata TUTTA LA vita recuperata L'ho messo la mente male Adesso ho combattuto Aiaiaia Ti fa male lui, vero? Mmm Mi sento così Eh, xiao yu è Xiao yu è Oh, è lì sopra Se non lo prego stavolta Guarda Ha preso ben poca vita Aiaiaiaia Ma smakik dorme Non vedo la vita Quelle facce di merda Non lo so Qualcuno beccherò Hai preso E' lì davanti a te E' sapeva Scappa va No che Si scappa Vengo io che ho Molta vita Mi hai attaccato al culo Aspetta che ci ricarico Allora, finisce Perché è così poca vita Non ho neanche visto quanta vita Ok Dai, dimmi che lo becco Per favore Ale Ma ti danni faccio? Ho vinto, abbiamo vinto Si Ape che ha spavito l'HUD Ok, benissimo Ah, che bella vittoria Me lo so Ti fa cagare il cazzo Invece E' debolissimo Questa Questa Statistica Di merda Che c'è C'è statistica Benissimo Si, più sei difesa Sono due di più danni Via Eccezza No Death 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 Defense Dai Più danni non difesa Più danni E vabbè Quindi ti danni di difesa E' qualcosa E ma c'è solo difesa Ah ma che cazzo C'è la notizia a cui piacciono i cavalli No Cosa? Non dire Crettino Crettino Tu ti immagini queste cose Io ho detto una cosa Normalmente così Tu ti immagini Chissà che sti trezzo Forza Forza C'è Una mente malata Ma devi Perché devi offendermi Si Tutta la cina è nostra Quasi Praticamente Non dobbiamo i soldi Per poter ringraggere nessuno E chi se ne frega Tutti Poi mi x hanno infinito C'è Ok no Suonete questo Ah forse appena qualcuno E poi avrei x how you want Release Sì Sì Questo no Sun Jian No no Forse Tanto Tanto quel lato Sicuramente non vorrà unirsi Rilasciare tutti Vabbè Vabbè anche lui il suo onore Spostalo dove c'è uno zero Così Magari lì No A destra Magari Qui? Sì Per montare in battaglia con più soldi E' un errore Benissimo 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 5 ordini Come si è messi? 12 minuti Abbiamo tutto il tempo per fare I gestionari che ci pare Olè via Ma fai te Fai te Faccio io Abbiamo pochissimi Ah no Abbiamo buttato Come hai fatto il primo E no Quando finisci Sicuro? Sì Perché abbiamo inutato Tutte le difese Di tutte le zone Abbiamo regalato i soldi A tutta la gente Tipo il bonus Di Renzi Fabio ma che senso ha regalare i soldi alla gente? Eh ti mi fa volere la gente Ha senso lo stesso Assoluto A livello Io voglio capire cos'è sto delegate Mi sono rotto il cazzo Non ho mai capito cos'è Ne un e uno Ah A caso eh Ah tipo ne hai fatto Senza soldi Ne hai fatti tre E ha Calmo Cosa? Ah Ho capito cos'è delegate E che cos'è? Ti fa lui le cose al posto tuo Abbiamo solamente perso soldi Ah fantastico Salve Io quasi quasi posso saltare la battaglia Perché non abbiamo soldi Non possiamo invadere un culo Non invadere niente Salta Salta non mai siamo Basta che non ci attacchi da noi Vorrei Sterminiamo Ciò che rimane E vinciamo Mi ispira a questo Prendilo Più difesa E forse Oh Cosa è successo? Potremmo Possiamo ingaggiare uno di questi E direi Inghaggiare Tutto schifo E uno che già tra i Dici Prendi Yangtze Perché hai scritto get Così perché? Forse non ho Non abbiamo ancora mai visto Ah prendi uno che già tra i dici Perché prendere gli altri Non mi sembra E quindi E quindi E' un tonto Che razza di E' tipo Provoca un'armata nemica Per portarlo in un altro punto della mappa Vabbè dai Oh Che sai Vabbè Release? No non mi sembra una buona idea Di nulla Non capisco il senso Perché Questo non è la doppia esperienza No va bene Attacchiamo qualcosa No non voglio Questo Cos'è? Ammenta lo sviluppo di Tutti Cioè i danni delle Delle armi Del personaggio Sì Soldi Promotcraft Forza Beh Attacchiamo Promotcraft E mi ispira No Promotcraft Ancora Perché ci servono Tipo le tasse No tipo sviluppi Di più E quindi vedi i soldi Ma attacchiamo Per favore Siamo in difesa Sicuro Ci divino Guarda Non ho paura Se ci vanno Quello Amel Tanto Prendiamo i gialli Si O vedi che ci attaccano Tanto che se ne frega No Perché i veri C'hanno la base Qua Prendiamo i veri Di lì Ah non ci possiamo Abbiamo 30 anni Dai ammazziamo questi qui Ovviamente dammi il mio Non mi frega niente Dopo non me li importa niente Dopo le sconfitte di prima Guarda Ops Certo che I strateghi cinesi E' un po' schifo E' un po' schifo Ho filmato Mi sa Ho filmato Credo Allora è uguale a mille altri filmati No forse no La musica di Altonamento sottofasso Si Firmato è uguale agli altri Si Ai denti Vole Dice Puttanate Che non 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 Renderebbero Un po' A nessuno E fanno E fanno Siamo sotto Del doppio Delle unità Nei questi soldati Poi non gli frega un cazzo Di niente Praticamente Questa è una tattica Abbastanza ovvia Uno va in direzione L'altro va nell'altro Basta che non muori Ma io ci provo C'è un personaggio di merda Tu dove vai adesso Sinistra Si Il numero da sopra E' mai stato un problema Di solito Eh Il numero da sopra Non è mai stato un problema Di solito Sono i personaggi Che sono No 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 Ecco qua uno San Shang Tsang E' sempre la ragazza Che uccideva sempre Quell'altra partita Ma quanto è bello Ammazzarla Guarda E' già morta Prigami Che casino Perché tu c'è la potenza Non è colpa mia Casino Aiaiaia Shang Tsang Dove Poi è andata Si sta scappando Ma In un modo schifoso Quindi la deco Che è che mi bombarda Vabbè E dai È già morta Che bello Perché puoi fare una modalità così Però solo con i personaggi creati Anche Cioè crei un sacco di personaggi Mi metti dentro A fare i capitani Delle zone Che pena Perché Perché la personalizzazione dei personaggi Di sto gioco qua Fa un po' schifo Eh beh Se non è bravo a creare personaggi Magari Ma anche se non è bravo Comunque fa schifo stesso È troppo poco personalizzato Cambi colori e fine No ma ci sono pochi oggetti E basta All'inizio Poi dopo S'ha fatto un sacco Porca troia Porca troia Quanto male Ma lascia Ma get a life Lasciami stare Ma scappa via idiota Ma devi Perché mi fai Perché sì Perché mi fai ammazzare con niente Perché non mi sto facendo ammazzare Se ne abbia certo ho perso un po' di vita Allora perché impreghi così tanto Perché non mi lascia stare Ho imparato una combo infinita Ah sono in due adesso Ehi fei Scusa il casino Porca Ok mi va bene così Ok quindi ho vinto Questa base qua è mia Sì Ok buono Prima per l'attacco Overrun that baby Nooo Credo di sì sì Che sì mai lì C'è sì mai lì Scusa visto che non ci guarda mai Sono in tre qua sotto Visto che non ci guarda mai Dobbiamo prendere l'enemy main camp E uccidere le cellule O uccidere O uccidere Vabbè uguale Prende uguale E nì sono in tre qua sotto Vogliono vedere morto Arrivo lì Ehi frecce Ho la vostra finale Sì lo so però Non ho fatto molto il fatto direi Ok capisco che possa essere L'uso sia dei personaggi forti Ma non so se ti sei a conto Che tutto quello che fai Nell'ultima partita è scappare Lo so Perché voglio cambiare il personaggio Quello che lo fassi Scappa prima che muori Lo so Prima che tu muoia poi Prendo il suono dei soldati Mi giro Poi vado via Ciao Ah no non posso andare neanche di là C'è un altro capitano Cioè sono quattro qua Qui c'è un coso cos'è? Eh lo ho ricaricato Tutta la rabbia La rabbia non so Non so come parlo Eh di sinistra? Dietro di te Annie Cosa c'è? Ah eccolo Eccoli Grazie Mi sei ormai salvatore Mi è venuto in mente A caso Così coso Di come si chiama Sudeki Bel gioco Sudeki Però non si è mai andato avanti Perché? Non ce l'ho pensato Lo l'ho fatto A livello proprio istintivo Non lo prenderò mai Vabbè Tanto che ho la torre Ok son vivo Che non ho fatto niente Non sto appuntando a me Aia 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 Soldati di merda Le useremo spesso i soldati Oh se questo qua da cipollotti te li lascia a testa a volte Vabbè Dov'è? Non lo so come per fare Sì ma gli Sì ma gli E' un personaggio che usavo tempo fa quando giocavo a me Ok Ok c'è un cipollotto per il Mi ha recuperato Beh intanto c'è un cipollotto Meglio di niente Cioè la gente sparisce in sto gioco Ci sono i fantasmi Ma anche il singolo giocatore fa così I singoli giocatori ci sono tipo 50 soldati sullo schermo Solitamente Massimo credo Ma non è poco Ok in 2 ovviamente fa più fatica Eh sì ok Giusto per sapere quanto era messo male il singolo giocatore Il singolo giocatore non funziona Cioè puoi fare anche tipo 50 giorni con una mossa finale Ebbè anche qua Non è che non li vedi Non è che non ci sono Considera che in One Piece puoi fare anche tipo 200 Perché anche se sono forti in mossa finale in quel gioco Cioè forti sono ampie Non tanto forti Penso che non giocherò mai Da Nasty Wall o One Piece Perché? Perché non me ne frega niente Da Nasty Wall o One Piece Infatti E' un pensiero che condivido Però comunque un bel gioco Perché da Nasty Wall o l'interno Come ti hai messo lì? Mi sono messo che sto cercando semplicemente di eliminare Ci pollotto qua eh Prendilo tu Prendilo tu Prendilo sennò scompare Ok Sennò che sei messo male tu Non io Beh sulla base Ok La cosa ti devo prenderlo No non sono messo male Adesso ci sono generali nemici vicini Mi basta veramente girare Fare una mossa finale Che sembra qua sto trovando abbastanza eh Questa? A questo livello qua A questo livello no Ah no? Sembra lungo però La parte forse La parte sì Perché abbiamo fatto anche la partita prima Sembra sì Che finita subito A questo livello non è necessario Che spiega uno Che c'è uno Allee Non c'è uno Che cos'è uno Che vabbè Vabbè Ma ci sento Che c'è uno Che c'è uno Tu ti occupi di quella batteria o io o dove l'ho solto? Come sta andando? Tutto sommato bene Dai Ling chi è? Vabbè le auto non so se non ci sono a prendere Non uso più delle combo da una vita Cioè? Che vabbè sempre guardato e basta Quindi anche te ne angolo fa delle cose belle La cosa brutta è che in questa modalità non so come si prendono le armi Le armi per la classe Che se prendi un'arma potenziata tipo fai più attacchi anche Che una cavolata Infatti su Gundam ti basta avere il livello alto delle pilota Per poter fare le combo Ma da qua non c'è o tre fai sempre lo stesso gioco ogni anno due volte Vanno avanti così Ero io lì Ero io Mi hanno conseguitato due Mi viene in mente una canzone Ah è comparso il capitano finale Nemico Fallo tu? Infatti Tu vada a me Molto negro Il mio personaggio poi Ok ok Scusate Questa base qua è conquistabile Vai direttamente al boss Cioè lato su? Sì dai tanto Ok Vuoi continuare ancora un po'? No no a me va bene Lì ti occupi meno spazi sul computer Non è quello Tanto gli fai il DOBS che sono veramente poco Simulatori di passeggiata anche questo comunque Un po' sì Abbastanza Ma almeno qui il simulatore del passeggiata è con la spada Cosa vuol dire? Anche l'altro simulatore Proprio ti dormi C'è i coltelli Vabbè però dormi lo stesso Perché ci sono dei momenti in cui non trovi nessuno neanche a piangere Devi di poi fare un GPS ai tuoi stessi nemici Trovarti Sono io Non capivo che ho visto una spavento Non ha funzionato tanto bene Ok eccolo Ci sei Danny? Tra le una via Dov'è il capitano? Non lo so Ammazziamo i soldati almeno Credo dove ve l'ho preso No ma ne ho preso solamente dei soldati praticamente Non sono sicuro Ce l'ha con te secondo me Eccolo qua Non pesa che dura molto comunque Per muovereci perché ci sono delle unità del capovallo E che cazzo perché mi sono fatto troppo poterlo E mi chiedo perché il tuo posaggio lo faccia con il foto della spada Invece che con la spada Perché lui è troppo figo Dove è il capo? Boh non so mica se l'hai preso Preso sì Pulito la zona Che casino Eccolo Mi sto facendo male Sì sì Muoviti che stanno combattendo la base principale No i nemici Stanno attaccando la nostra base principale E quindi sta riscando di perdere? Non siamo molto lontani Non siamo molto vicini a perdere Però non c'è neanche troppo lontano Aspetta Ok vai Mi sono occupato un po' Moto? Magari Ok benissimo eccellenza Eccellenza Per questo sonato BAMBAH Tu me ne hai detto Moto? Muori! Ok Penso sia morto Ok Fuà Comunque stavo detto però veramente poco Se ci pensi Ma neanche troppo poco Tipo minigioco Si è minigioco Però è orientato tutto su questo Sta versando il gioco Va bene Sei bello C'è niente che gioca solo all'Empires Non ne conosco tanto Sei tua Hai un Ti metterti lì per sfizio Dai ma neanche per quello Te la serve Più uno attacco sì Sì Dai vai avanti Finalmente Che palle Chi se ne frega Chi se ne frega di cavalli Di orso Ok potenzialmente Io no Vediamo un po' cosa succede Vi sono comunque usato qua Tutto alla cina Tutelare Sono fottuto Sì ma gli prendilo Che mi sa che lo userò Questo qui si? Sì Questo qui anche Sì Gli altri Ti prendili tanto Ok basta Benissimo Mettili No da questo è facendo Da qualche parte Guarda Questa Dici basta Metti tutti Metti tutti No Non so Metti Metti Ok Siamo ne donno 2002 2013 Merda Va bene Ti posso anche stare con la sopra Adesso Quanta gente c'è in colato Non siamo noi Non credo È stato un terremoto Noi Noi L'ha Però in fondo È a breve libera C'è tutta la cina Basta Facciamo Finiamo Io direi Che questa volta Qua è durata anche abbastanza Ciao a tutti 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 Ciao a tutti